oggi preparo delle cozze ripiene e fritte dopo averle lavate bene le cozze le apro il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info metto 2 uova mi smacco bene poi aggiungo parmigiano un po' di prezzemolo e un po' di aglio infine aggiungo parmigiano grattugiato un po' di aglio ora aiutandomi con un cucchiaio riempio le cozze un po' di aglio un po' di aglio un po' di aglio faccio friggere in olio bollente un po' di aglio 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 un po' di aglio